Ciao mister, ti voglio chiedere, la partita di domani è contro la squadra che da tutti è indicata un po' come la favorita principale per la promozione in Serie B. Tu in cosa ti aspetti di vedere ulteriori passi in avanti della tua squadra al cospetto di questa prima partita in trasferta così importante? Allora, mi aspetto che la squadra maturi soprattutto dal punto di vista dell'atteggiamento mentale nella gestione delle difficoltà. Domani incontriamo una squadra che probabilmente farà un campionato da protagonista, questo non significa che andiamo giù a farla vittima sacrificale, anzi, 11 sono loro e 11 siamo noi. La partita andiamo giù a giocarcela, sappiamo della forza dell'avversario ma questo non ci deve intimorire. Ci saranno dei momenti difficili sicuramente e lì per rispondere alla domanda mi aspetto che soprattutto chi ha più partite nel proprio curriculum abbia quella maturità di mandare messaggi all'interno della squadra, all'interno della partita stessa, di trovare il momento di coesione in base alle difficoltà che incontreremo. È lì che si vede la maturità, lo stato di crescita della squadra. Parlo di giocatori con più partite perché sono loro poi che hanno un po' più esperienza e sanno come gestire certi momenti, se ci saranno. Io credo che ci saranno ma non significa che dovremo subirli quei momenti difficili, anzi, per noi sarà un momento di crescita. Rimango dell'avviso che non una partita ce la giochiamo perché loro sono molto forti, forse sono più forti di noi ma non sempre la squadra più forte vince. Giacobbo? Giacobbo è una situazione che aspira a vincerlo questo campionato. Ecco, vedendo il Teramo dopo l'1-0 di Reggio di mercoledì, hai avuto quelle risposte a livello di intensità, di stare attaccati alla partita, che ti aspetti anche qualora dovesse succedere domani? No, perché il Reggio dopo che abbiamo subito il gol, che tra l'altro era il primo tiro in porta che subivamo, la squadra non ha avuto una buona reazione. Infatti due minuti dopo, tre minuti dopo abbiamo preso un altro tiro in porta. E' normale, ci sta, soprattutto per una squadra che adesso inizia a formare la mentalità, secondo me dopo le difficoltà del finale di stagione dell'anno scorso e dopo la difficoltà del nuovo inizio, no? Con tutte le storie che sapete. E quindi me lo aspettavo, una reazione così, un po' quasi di scoraggiamento. E' proprio lì sta il percorso di crescita. E per noi, anche ieri in allenamento, in cui in certe situazioni potevamo far meglio, è un momento di crescita, è un'opportunità per crescere sia l'allenamento che la partita. Mi aspetto quelle risposte, spero non ci siano momenti difficili, ma se ci saranno mi aspetto quelle risposte. Se a Reggio, ripeto, potevamo far meglio dopo il gol, perché poi il secondo tempo io sono entrato dentro lo spogliatore e mi sono arrabbiato molto con i ragazzi. Perché si può prendere gol, ma in realtà fallisci solo quando molli, quando hai mollato. E quindi non permette alla mia squadra di mollare, non permette alla mia squadra di avere un calo mentale. E poi si può anche perdere, ci sta nel calcio, il risultato non lo controlleremo mai, ma l'atteggiamento sì. E quindi domani per noi è un'opportunità per crescere da questo punto di vista. Giuseppe Walter? Sì, buongiorno mister. Allora, senta, io vado un po' più sull'immediato, sul concreto. Allenamento di rifinitura questa mattina, quali sono le condizioni generali della squadra? In particolare di Soprano, se sarà della gara, ma c'è anche Di Matteo, sarà convocato? Non so, Minelli? Comunque, ci dica lei. La squadra oggi, la squadra sta bene. Di Matteo non sarà convocato, Minelli non sarà convocato e Soprano stiamo valutando. Ha svolto un leggero allenamento, adesso nel pomeriggio decidiamo la convocazione. Quindi è convocato Soprano, sarà convocato? Dobbiamo decidere oggi, perché stamattina ha svolto un lavoro differenziato in base alle risposte che ci daranno i dottori, vedremo. Vai Walter. Mister, io credo che lei domani abbia un paio di dubbi forti, no? Soprano, anche ipotizzando un recupero difficile di Soprano, mancherà oramai un terzino destro, che potrebbe essere il giovane Celentano, confermando Di Akite, difensore centrale, magari con Piacentini, dando per out Soprano. Oppure mi dicono che addirittura ha giocato con lei, quarto di difesa, esterno destro, l'ASIC a Brescia. È un'ipotesi o è una chiacchiera? Un'ipotesi, sì. Ho provato l'ASIC terzino destro perché ha fatto già quel ruolo, ha ricoperto quel ruolo. L'ha fatto sia a Brescia, l'ha fatto anche ad Avellino. È un giocatore importante per noi e può fare quel ruolo tranquillamente. Io ho la massima fiducia in Lorenzo Celentano. È un ragazzo giovane, è un ragazzo che ha la prima esperienza e quindi ha bisogno del suo tempo per maturare. E quindi noi abbiamo bisogno di trovare un'alternativa in quel ruolo. Se dal mercato non arriverà niente e quindi io devo iniziare a pensare a un'alternativa proprio futura, che ci consenta di avere, oltre Lorenzo, un'altra alternativa valida. E quindi è un'ipotesi, l'ho provato, secondo me può farlo benissimo perché ha fatto un campionato di Serie B titolare in quel ruolo, ha giocato a Brescia titolare in quel ruolo, quindi non vedo perché. Sta bene, sta bene. Viene da due stagioni in cui ha avuto difficoltà fisiche. Ha un grande potenziale, secondo me. Ha bisogno di tempo. Non credo che in questo momento sia al massimo delle sue capacità. È inevitabile. Però penso che ci possa arrivare presto. Con le partite io credo che ci possa arrivare, anche perché è un ragazzo veramente in gamba e sono convinto che ha fame di riscatto, insomma. Ha fame di riscatto e credo in questo fuoco. Mister, è vero che lei lunedì alle 20 e un minuto festeggerà la fine del mercato? Sì. Anche un minuto prima la festeggia, perché non credo che nell'ultimo minuto... No dai, fino all'ultimo minuto non si può dire mai. Noi qualche tempo fa, all'ultimo istante, c'erremmo Sansovini, quindi potrebbe succedere. Ma è meglio di noi. Guarda, lo festeggerò perché non vedo l'ora di iniziare a fare anche un altro tipo di lavoro. Certo. Il profondo, che in questo momento mi sento di non fare perché... Tanto magari poi va via qualcuno e... Appunto, non ci sono certezze, no? Appunto, quindi ho proprio voglia, ma non perché in questo momento io... Per me la prima esperienza è Lega Pro, quindi potete capire l'entusiasmo che ho a stare qua. Però ho proprio la voglia che chiude il mercato per avere la voglia di lavorare ancora in maniera più profonda con questi ragazzi qua e cercare di tirare fuori il meglio da loro. Lei però si è già preso le simpatie della città. Questo è bene che lo sappia. Ah, voilà. Non lo so, io credo che sarò giudicato dai risultati. Questo è il mio lavoro. Lo so, è una responsabilità che ho nei confronti della società, dei ragazzi, della città. So che verrà giudicato per i risultati. Però quotidianamente lavoro per quello. Non ho altri pensieri in questo momento nella mia vita. Paolo? Sì, eccoci. Buongiorno, mister. Buongiorno. Allora, hai detto che questa partita contro il Bari al dirà del risultato è un'opportunità di crescita. Però, più concretamente, qual è il passo avanti che si aspetta nel processo di crescita in questa partita così difficile, diciamolo chiaramente? Allora, mi aspetto progressi. Mi aspetto progressi, sia dal punto di vista della prestazione che dal punto di vista dei risultati. L'importante è andare avanti. Poi, io credo che in questo viaggio ci saranno dei passi falsi. Credo che ci saranno dei momenti difficili. Però il nostro focus è sul progresso, sul miglioramento. Quando parlo di progresso, parlo di prestazioni, ma parlo anche di risultati. E quindi, per noi, è fondamentale domani tornare a casa con dei punti. Quando parlo di miglioramenti, io non ho... Cioè, il mio percorso allenatore è partito subito dai grandi perché per me il calcio è competizione. Quindi, è il risultato alla fine che conta. Mi sta bene anche giocare meno bene, un po' più male, però alla fine portare a casa il risultato. Perché alla fine è quello che mi interessa. E quindi, concretamente, mi aspetto di vedere progressi dal punto di vista della prestazione e anche dei risultati. Gaetano, Jacopo, avete altro da chiedere? Sì, sì. Mister, ti chiedo, tra i pali è tornato Valentini a Reggio Calabria. Tu hai un ruolo nel quale hai il ballottaggio in ogni partita oppure hai già fatto una scelta definitiva in quel ruolo? No, non ho fatto una scelta definitiva. Sono due ragazzi validi entrambi, con grande potenziale. E in questo momento Lewandowski è avanti perché Valentini ha avuto un infortunio e io non ho avuto modo di poterlo vedere all'opera nelle amichevoli. Quindi Lewandowski è iniziato, è iniziato bene e in questo momento è Lewandowski in avanti, titolare, sì. Poi questo non significa che, io spero che andrà tutto bene, ma ho grande fiducia in tutti i due portieri. Però per una logica proprio di squadra, chi gioca bene e merita, è giusto che continui a giocare. Ho questa filosofia. Jacopo? Mister, a proposito di mercato, adesso al netto dei tuoi festeggiamenti alle 20 di lunedì. Però ti chiedo, siccome un centravanti, ce l'ha ribadito anche il direttore sportivo Sandro Federico, un centravanti dovrebbe arrivare. Io non ti chiedo il nome perché non me lo faresti mai, però ti chiedo, in relazione anche a come si sta esprimendo pinzauti davanti. Pensi che a questa squadra serva più un centravanti di manovra, che magari segni qualche gol in meno, ma che aiuti i tre dietro la punta, o serva un centravanti magari un po' più egoista, che faccia qualche gol in più, ma che aiuti meno la manovra, che sia un po' più finalizzatore? Ma guarda, si può giocare a calcio in dieci più uno, nel senso che l'attaccante deve far gol. Hai voglia che ci giriamo intorno. Il ruolo dell'attaccante è delicato perché viene valutato per i gol e i gol dell'attaccante per la squadra sono vitali. Per me è importante la squadra, è importante che tutti e undi si corrono perché l'atteggiamento fa la differenza. Poi certo, se l'attaccante come unico ruolo si sforza un po' di meno nella fase non possesso, ma è più profigo in fase realizzativa, per me va bene. Non è un problema. Perché alla fine noi dipendiamo dai gol degli attaccanti. Io ho molta fiducia in Lorenzo, perché è un ragazzo veramente in gamba e anche forte. Quindi noi abbiamo la massima fiducia su di lui. Certo, se dovesse arrivare qualcun altro siamo contenti perché a livello numerico siamo un po' pochi davanti. E quindi non ho grandi alternative. Però rimango della massima fiducia di Lorenzo, che è un giocatore in crescita, che sta facendo bene. E quindi ho la massima fiducia. Giussi? Allora, senta mister, mettendo un attimino da parte il mercato, perché c'è la partita di Bari che incombe ed è importante. Poi tutto quello che viene è tutto di guadagnato, perché la trasferta è difficilissima. Ma di fronte a un Bari che ha una rosa importantissima, soprattutto nel reparto avanzato, su tutti i antenucci, cosa ha predisposto dal punto di vista tattico per cercare di contenere l'attacco del Bari? Ma allora, abbiamo preparato la partita come sempre, quindi l'abbiamo preparato sulla nostra costruzione, sulla nostra fase difensiva. Sì, è indubbio che il Bari attacca in molti uomini. Tre attaccanti più due esterni attaccano sempre. Quindi da un lato è un vantaggio per loro, ma da un lato potrebbe essere uno svantaggio, perché sicuramente lasceranno campo alle nostre ripartenze. La partita è stata preparata come tutte le partite. Noi ci concentriamo molto di più sul nostro processo di crescita che sulle squadre avversarie, che dobbiamo sapere come affrontarle, no? Sia come costruire l'azione contro il loro pressing, sia come difenderci, sia dove trovare spazi per le ripartenze. Le inattive, la partita delle palle inattive. Ma detto questo, siamo più concentrati su di noi. Quindi lei è molto fiducioso sull'aggressività e la velocità del Teramo, che davvero possa mettere in difficoltà una squadra anche lenta e compassata, esperta, come il Bari. Ma guarda, se la mettiamo sul piano della qualità tecnico, non credo che c'è partita. Noi dobbiamo metterla sul piano dell'aggressività, sul fatto di saltarli addosso in ogni situazione e non farli ragionare. Il nostro miglior regista, come dico sempre alla squadra, è il contro pressing, è la riconquista della palla. Perché se non ci arriviamo magari con la qualità, ci possiamo arrivare con le riconquiste della palla e con quell'aggressività che in questo momento stiamo iniziando a vedere. E altro da parte di Bari? Sì, volevo, se il mister me lo consente, io sto per scrivere la presentazione della gara e azzardare quella che potrebbe essere la formazione. Io la metto in campo, se lei ci sta, mi dice quanti errori commetto. Giocherà Lewandowski con Lassic e Tenterdini esterni, Piacentini e Diachite centrali, i tre classici, Ilari, Costa Ferreira e Bombaggi, con Pinsaudi davanti e Arrigoni-Santoro, i due davanti alla difesa. Quanti errori ho commesso? Allora, mi piace questo gioco comunicativo. Io non ti dico la formazione, però ti dico... Ci provo io, ci provo io. È bella sta cosa, è simpatica. E io cerco infatti di scherzarci anche un po'. Sbaglio tanto, no? Non sbaglio tanto. No, no, non sbaglio tanto. Ok, grazie. Grazie a lei. Mister, l'ultima che ti chiedo, se, come sembra, Mungo rimane, tu in che ruolo lo vedi meglio? In panchina. No, se rimane un giocatore importante, non possiamo permetterci assolutamente di tralasciare le sue qualità e la sua importanza. Io come allenatore, noi come staff, dobbiamo cercare di tirare fuori il massimo da lui. Come ruolo, per me, nel 4-2-3-1, può fare sia l'esterno che il trequarti dietro la prima punta. A me, come caratteristiche, il ruolo del giocatore dietro la prima punta mi piace una seconda punta più che un trequartista, cioè uno che attacca gli spazi. Perché questa squadra non ha molta profondità, avendo tanti giocatori che vogliono la palla nei piedi. E quindi è inevitabile che per me nasce l'esigenza di avere un giocatore con più gamba che mi attacca gli spazi in quel ruolo. Ma Mungo può fare quel ruolo, può fare l'esterno. Non lo vedo mediano perché secondo me è un giocatore sprecato nella mediana. È un giocatore che ha qualità e possiamo sfruttare le qualità nella fase offensiva della squadra. In bocca al lupo, mister! In bocca al lupo! Buona giornata! Grazie! Ok, a breve vi giro allora il file. Ma come lo giri? Integrale o pulito? Pulito. Lo pulisce? Integrale e integrale adesso. Ecco, siccome l'abbiamo fatto. Ok. Integrale. Grazie. Saluto! Ciao, Marco! Chiudo! Passo e chiudo! Chiudo! Ciao! Ciao!